E questa sera 18 agosto siamo in chiusura con lo staff che ha cucinato magnificamente tutti questi prodotti Momento Relax, vai! Tutti hanno lavorato per voi, guardate un po', stanno ancora lavorando, vai! Tutti hanno lavorato per voi, guardate un po', stanno ancora lavorando, vai! Tutti hanno lavorato per voi, guardate un po', stanno ancora lavorando, vai! Tutti hanno lavorato per voi, guardate un po' di più, guardate un po' di più, guardate un po' di più, guardate un po' di più. Tutti hanno lavorato per voi, guardate un po' di più, 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 guardate un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.